One in a million, the one and only Polotto E Leon Gino Siamo di nuovo qua E adesso parliamo del Cerea Non ho detto la data ma ovviamente è quella di prima Quindi vabbè, lunedì 11 marzo Vabbè, allora Cerea Comics Eccolo Si è riaccesi il lampione Infatti stavamo aspettando sta cosa Vabbè Domenica a 10 siamo andati a Cerea Prima volta Anche qua La giornata è iniziata malissimo Perché praticamente Mentre ero a metà strada Per incontrarmi con il Leon Gino Mi sono accorto di aver dimenticato Il telefono a casa Quindi se iniziamo così Vabbè, poi quindi partenza Comunque in ritardo di una mezz'oretta E viaggio Ah, mentre Mentre Eravamo in autostrada Ci siamo guardati Cioè al meglio Io guardavo Lui guidava Quindi in teoria E ci siamo guardati in Chigaio In diretta Dove anche i popperini Grande Noctak Sei un laido Ma per fortuna che ci siete Che lo trasmetti E quando poi c'erano delle esibizioni Che ci interessavano particolarmente Ci siamo fermati in piazzola Ci siamo fermati in piazzola D'emergenza Per guardare Per stannare bene Chi erano Che cazzo sono Il telefono La nottica Sembra La sirena della nave Ci siamo fermati in piazzola Ci siamo fermati a guardare Triby Vida Alloca 7 giugno Mi raccomando In tanti E Poi le iChilling Incredibile L'hanno fatta esibire Dopo le Triby Boh vabbè E L'Elessora Film Che Le più smart Esatto E anche Taeyong E anche Taeyong Non so mai guarderei questo video Tap tap Tapping on me Ovviamente Hanno vinto Le L'Elessora Film Ho perso il conto Con Easy però Non cos'è Ah è vero Ah con Easy È vero È vero Boh Ormai sono dieci volte che vincono Da tipo Due o tre settimane Dopo la vittoria Mi sa che Non hanno detto due parole Ma ormai sono talmente abituate Eh sì No anzi Boh si erano tutte quante avvicinate Che fra un po' Cadevano Facevano Non sbaglio Questa è stata questa settimana Venerdì forse Che hanno vinto i Kravity Che hanno pianto Era la prima volta Che vincevano No secondo me L'hanno già vinto Però Però sì Nel senso Che per fare Vabbè che poi dipende sempre un po' Da che personalità c'ha uno Però pienevano tutti Quindi Aspetta Che programma era C'era Music Bank Ah era Music Bank Sì sì Che c'era un C'era un C'è giustamente Tra gli MC C'erano i Serafim di fianco a lei Sì comunque Cioè È un video su Inchigaio Dovevano parlare del Cerente Questi siamo persi Vabbè ma il tempo c'è Vabbè Tre minuti Vabbè Allora Siamo arrivati Siamo arrivati a Cerea E Che pioveva Di brutto Sì Dopo 20 Autovelox E vabbè Grande la tipa Che a momento ci metteva sotto Sulle strisce Lì davanti all'ingresso Tessa di cazzo E Spero che si sia scheggiato Il cofano Che gli ha dato una botta Con Il treppiede Potremmo darglielo più forte Vabbè E Vabbè Vabbè Poi siamo entrati C'era il padiglione Solo per il K-pop Quindi Ci stava Dai Diversa location Rispetto a quella dell'anno scorso Cioè no Aspetta La location era la stessa Il posizionamento dell'area K-pop Era diversa Sì No Ma no Scusa Sarà stata sempre alla stessa Zona fiera No No Vabbè Perché nelle storie Di quelle dell'anno scorso Si vede che c'è il vetro dietro E invece Lì dovremmo noi Quest'anno Ma Ma porca puttana Ma sto salvando il video Nella memoria del telefono Non ci credo Ma sono un coglione Lol Vabbè Vabbè Niente